Presentiamo l'idea più innovativa e più intelligente per la tua cucina. La tecnologia all'ultimo grido ti permetterà di lavorare in modo più veloce, pulito e intelligente. Tagliare. Guarnire. Decorare. E pelare. Resta sintonizzato e segui i nostri esperti di cucina Pepe Roesler e Horst Fuchs con gli speciali coltelli TV Airwave. Attenzione, solo il sensazionale coltello TV Airwave è dotato della speciale tecnologia con cuscino ad aria. Grazie alla lama speciale questo coltello taglia qualsiasi cosa sul suo cuscinetto ad aria. E in un batter d'occhio otterrà i risultati fantastici. Salve e benvenuti nell'Airwave Studio. Vi presentiamo uno strumento rivoluzionario, sensazionale, assolutamente unico. E chi sarà a parlarvene Pepe Roesler. Ciao Horst, salve a tutti. Questo coltello è assolutamente sensazionale. Guardate, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette denti. Con questo tagliare è un piacere ed è anche sicuro. Questo coltello ha una forma ergonomica, può essere usato sia con la mano destra che con quella sinistra. E, cosa più importante, è un coltello a tre zone. Una liscia come i coltelli professionali, una particolarmente robusta, che va spesso a contatto con il piano da lavoro. E in mezzo, come dicevo, c'è questa speciale dentatura. È un coltello che ti permette di tagliare con l'effetto a cuscino d'aria. E ora guardate, taglieremo delle fette di pane. In genere alcune ci vengono sottili, altre più spesse. Ora abbiamo la soluzione per averle tutte uguali ogni volta. È vero, non sono mai riuscito a tagliarle tutte uguali. Grazie a questo distanziatore che può essere usato sia con la mano destra che con quella sinistra. E ora potete tagliare in modo preciso fettine tutte uguali per la prima volta. Spesse, sottili o anche ultra sottili, ad esempio. Per tagliare il pane lo abbiamo impostato a un centimetro. Ora possiamo tagliare delle fettine perfette. Fantastico. Meglio che con un coltello per il pane. Hai mai tagliato del pane con i semini con un coltello normale? Sì. Sembra un'esplosione. I semini schizzano ovunque, Horst. Guarda, grazie al cuscino d'aria basta semplicemente farci volare il coltello in questo modo. Ecco una fetta perfetta, un taglio pulito. Ed eccone un'altra, per favore, guarda bene. È una scoperta sensazionale. Niente semini dappertutto. È incredibile. Ti garantisco che nessun altro coltello è minimamente paragonabile a questo. Si tratta di un coltello di precisione, ma può fare di più. Prendiamo, ad esempio, del pan dolce. A casa potete provare con un dolce qualunque. In questo modo potete tagliare tutte fette uguali, senza fare neanche una briciola. Potete tagliare con la mano destra, con quella sinistra o anche con tutte e due. Potete anche incrociarle e tagliare, ma credetemi, con questo coltello il risultato sarà sempre perfetto. Perché ridi? Si tratta di un prodotto che è dell'incredibile. È davvero pazzesco, Pepi. Si è incredibile, Pepi. Insomma, non vi servirà più un coltello specifico per salame. Se voglio tagliare del salame, mi basta impostare il coltello su ultra sottile. Vedete, amici, è solo questione di gusti. C'è a chi piace sottile e a chi spesso. Ad alcuni, poi, non piace per niente. Quindi non serve tagliarlo. Potete affettarlo come preferite. Fette appetitose e precise. Con questo coltello otterremo sempre dei tagli perfetti. Finora ottenere un risultato simile era un sogno. Ma ora voglio mostrarvi un'altra cosa sensazionale. Taglierò vari tipi di verdura. Perfino quelle risultano difficili da tagliare con un coltellino specifico. Per esempio, i gambi di sedano, verdure a foglia come il cavolo cinese o la bietola. Un lavoro pulito e preciso. Tutti pezzetti uguali. Questo coltello è fantastico. Perfino tagliare le verdure diventa semplice. Grazie a questa sensazionale offerta, oggi riceverai in omaggio completamente gratis... Il versatile coltello trinciante TV Airwave. Con la robusta e pratica lama da poter usare sia in casa che fuori. Sempre incluso nell'offerta... Riceverai il coltello per sfilettare super affilato del valore di 15 euro. Ma aspetta, non è ancora finita. Sempre incluso nell'offerta, riceverai questo set per decorare, pelare, tagliare e guarnire. Per decorare e abbellire appetitosi snack o deliziosi dolcetti, sempre gratis. Ma non è ancora finita. Riceverai a casa anche queste sensazionali forbici 5 in 1, del valore di 15 euro, che ti faranno risparmiare un sacco di tempo in cucina. È davvero incredibile. Riceverai tutto questo gratis. Così potrai provare direttamente a casa la qualità unica dei sensazionali coltelli TV Airwave. Con questa offerta, il solo prodotto che pagherai oggi è il sensazionale coltello da cucina TV Airwave. Con l'esclusiva tecnologia con cuscino d'aria, completo di distanziatore manuale per tagli sempre uguali e perfetti ogni volta. Chiama ora e riceverai questa esclusiva offerta al prezzo in sovraimpressione. Che cosa stai aspettando? Si tratta di un'offerta imperdibile. Chiama il numero in sovraimpressione e ordina il tuo coltello TV Airwave. Ma aspetta, non è ancora finita. Grazie a questa offerta esclusiva, chiamando e ordinando subito, ti invieremo 6 coltelli premium del valore di 28 euro l'uno, inclusi nel prezzo. Proprio così, gratis. Senza alcun costo aggiuntivo. Si tratta di un'offerta davvero imperdibile. Non perdere questa opportunità. Pagherai soltanto il prezzo in sovraimpressione per questo sensazionale coltello da cucina, con tecnologia a cuscino d'aria e comodo distanziatore manuale. Chiama subito e, incluso nel prezzo, riceverai gratis anche il coltello trinciante, il coltello per sfilettare, il set composto di tre parti per decorare e guarnire, le rivoluzionare forbici per erbette 5 in 1 e 6 coltelli premium. Si tratta di una serie completa che rivoluzionerà definitivamente il tuo modo di cucinare. Chiama subito e, grazie a questa offerta esclusiva, pagherai solamente il prezzo in sovraimpressione. Affrettati! Chiama e ordina adesso! E non dimenticare di chiedere agli operatori anche del ceppo portacoltelli. In questo modo i tuoi TV Airwave saranno sempre a portata di mano. E la tua cucina sarà sempre pulita in ordine. Niente più cassetti pieni zeppi di coltelli, grazie al bellissimo ceppo portacoltelli. Oggi ad un prezzo sensazionale! E ora, signore e signori, vi mostrerò il mio arrosto della domenica. Impostiamolo su uno spessore per arrosti, ovvero a circa un centimetro. Orst, ogni fetta è spessa esattamente come quella successiva. Tutte fette perfettamente uguali. È indispensabile avere in casa un coltello come questo con un cuscino d'aria. Ci sono tre parti fondamentali. La lama liscia per effettuare il primo taglio, la lama robusta per non rovinare il coltello. È vero. La parte più importante è in mezzo, la speciale dentatura per un effetto a cuscino d'aria. Questi sette denti qui creano un cuscino d'aria tra la lama e quello che state tagliando a ogni movimento del coltello. Ecco perché funziona così bene, ma non vi ho ancora detto la parte più bella. Ecco la cosa più interessante. Ora useremo il coltello per sfilettare con lama flessibile. Guardate, è davvero semplice da usare. Quando il coltello ha la giusta affilatura, quando è fatto con il materiale giusto, quando il manico ha una forma ergonomica e quando ha una lama sottile, allora avete il coltello giusto. Ecco quali caratteristiche dovrebbe avere per fare dei tagli precisi oppure se dovete tagliare qualcosa velocemente, una zucca o un melone, proprio come questo. Sfilettare il pesce. Taglierete tutto quello che volete in modo semplice con questo coltello. Ora prendiamo della carne. Se qualcuno non vuole la cotenna perché è troppo dura, guardate. In questo modo vi dimostro che questa cotenna è bella dura, quindi si tratta di un lavoro piuttosto complicato, non è così? Altro che... La pelle di maiale. Guardate, sembra la lama di un rasoio. Fa tutto da solo. È sbalordidivo. Praticamente è come tagliare burro. Se volete toglierla del tutto, basta tagliarla così. Sei un artista. No, non sono un artista. Sì, che lo sei. Grazie al coltello con cuscino d'aria posso tagliare la cotenna. È facile. Lo vedo. Allo stesso modo potete tagliare qualunque cosa per preparare dei cordon bleu. Questi coltelli sono un must in cucina, sembrano arrivati da un altro pianeta. Il coltello trinciante con lama speciale, questo è il coltello più robusto della nostra serie, è lungo ben 15 centimetri. Questo coltello si adatta facilmente alla mano. Ora giro il coltello e uso la lama speciale. Guarda, è incredibile. Per dur e sorgirare. È davvero una bomba. Inizio a tagliare i broccoli, gli spinaci, tutto quello che volete. Latte condensato in lattina. Potete metterlo nel caffè. Incredibile. Non lo affette. Voglio mostrarvi la robustezza di questo coltello, signore e signori. Questo coltello potrebbe non servirvi tutti i giorni, ma quando vi occorre avrete la garanzia di usare un attrezzo di lusso. E se volete, basta girarlo e riuscirete a tagliare anche il legno. Questo significa che potete anche tenerlo nella cassetta degli attrezzi di vostro marito, così avrà il coltello giusto per costruire i suoi modellini. Ma c'è di più. Ah sì, molto molto di più. Dimenticate quelle affettatrici ingombranti e poco pratiche. Niente più coltelli che non tagliano. È arrivato il coltello rivoluzionario con tecnologia TV Airwave. Grazie ai denti innovativi, la lama speciale scivola su qualsiasi cosa grazie al cuscinetto d'aria. In questo modo tagliare diventa più veloce, più preciso e più sicuro. Sfilettare carne o pesce. Aprire i panini. Oppure, grazie al distanziatore, preparare meravigliosi piatti da portata o arrosti. Le lame robuste resistono a qualsiasi genere di lavoro. Grazie alla qualità dei coltelli TV Airwave. Acquista questo coltello rivoluzionario, il coltello TV Airwave, completo di distanziatore manuale per tagli uguali e precisi. Solo questo speciale distanziatore garantisce risultati perfetti. Con un rapido gesto potete regolare lo spessore di ciò che tagliate. Attenzione! Il distanziatore manuale è disponibile solamente con il coltello TV Airwave. Non esiste niente del genere. I coltelli TV Airwave. Per sfilettare o disossare. Grazie alla loro lama speciale. Ma aspetta a chiamare. Resta sintonizzato e rimarrai stupito delle potenzialità dei coltelli TV Airwave. Pelare, tagliare, affettare. Grazie alla lama affilata su entrambi i lati. Questa lama, signore, è temprata a olio e a ghiaccio. Questa caratteristica, insieme alla filatura in diamante, gli permettono di pelare sia verso l'alto che verso il basso. Sono senza parole. Davvero? Verso l'alto e verso il basso, in avanti e indietro, anche velocemente. Ecco perché è un pelatore super, il pelatore professionale di Horst Fuchs. Horst, vieni qui un minuto. Voglio mostrarti una cosa. Sì. Tagliamo del formaggio. Hai sentito bene? Possiamo tagliare anche del formaggio. Basta far scivolare il coltello. Ogni fetta è uguale all'altra. Possiamo farlo non solo con il formaggio morbido, ma anche con l'Edam, il Gouda o il Cheddar. Guarda, Horst, hai mai tagliato il parmigiano a fette? Allora, perché non provi? Vedrai, sarà un successo, è facile. Tutti possono farlo. Guarda, ogni fetta è uguale all'altra. Sì, è un gioco da ragazzi incredibile. È anche divertente. Tutti, ma proprio tutti, possono riuscirci con questo attrezzo rivoluzionario. E finalmente niente sprechi. Quando la lama va in contatto con una superficie indifferente, che si tratti di una superficie dura o morbida, non è un problema. Sia che si tratti di sedano, barbabietola, mele, cetrioli, carote, peperoni, funghi. Puoi pelare qualsiasi cosa, verso il basso, verso l'alto o in entrambe le direzioni, vedi? A velocità massima e con la lama in questo modo posso togliere anche i semi. E ora vi mostrerò perché questo coltello è estremamente valido e non può essere paragonato a nessun altro coltello, oltre a pelare e a tagliare il formaggio. Possiamo anche guarnire il nostro dolce alle mele in un lampo, signore. Insaporire con qualunque cosa. Horst, per esempio, sta usando del parmigiano. Potete affettare le mele direttamente sulla teglia da forno per un risultato rapido e preciso. Dimmi, Pepi, hai fatto tu questa fantastica decorazione con tutta questa frutta meravigliosa? Certo, Horst. Ed è davvero molto semplice e veloce quando hai l'attrezzo giusto. Un fantastico set per guarnire. Con questo tutti possono farlo. Non occorre essere esperti. Guarda, meloni, uva, barbabietola, ravanelli, qualunque tipo di frutta o verdura abbiate in casa. Potete scegliere tra un coltello da taglio o un coltello loop. È davvero facile. Iniziamo con quello da taglio. Tutto quello che vedi qui ha una superficie curva. Meloni, olive, uva, pomodori. Puoi inciderli perfettamente e ottenere due metà uguali. Lascia che te lo mostri di nuovo più lentamente. Taglio il kiwi, tutto intorno. E ora, con l'ultimo taglio, ritorno al punto di partenza. A questo punto capovolgo la metà superiore. Così posso usare entrambi i lati. Guarda che meraviglia, Ors. Sono davvero bellissimi. Adesso faremo dei piccoli fiori. Oppure, per esempio, possiamo fare dei riccioli. Con questo coltello loop è un gioco da ragazzi. Iniziamo a tagliare. Andiamo verso il basso e ritorniamo su. Continuiamo così per tutta la superficie del ravanello. Incredibile. Questo coltello è affilato anche all'interno. Può essere usato sia con la mano destra che con quella sinistra. E ora faremo dei bellissimi riccioli con l'arancia. Basta tagliare e piegare la buccia per creare un bel ricciolo. Controlla l'ora. Per fare delle bellissime decorazioni non ci vuole molto. Circa 7-8 secondi. E quando dico 7-8 secondi intendo davvero 7-8 secondi. Bellissimi riccioli d'arancia in poche mosse. Ma ora veniamo ai coltelli più importanti, signore e signori. Ce ne sono ancora. I coltelli premium. Si tratta di coltelli unici che non si sono mai visti in cucina. Sono ideali per la colazione. Con i coltelli normali non riusciamo mai a tagliare bene i panini. Possiamo usarli per mangiare. Ma per tagliare ci occorre un coltello speciale. Un coltello universale da usare per ogni scopo. Iniziamo a tagliare. Pagnotte, rosette, pretzel, cornetti. Qualunque cosa viene tagliata in modo tale che non si sfaldi. Il risultato è sempre perfetto. Sono affilati come le lame di un rasoio. Prendiamo della crema spalmabile, del burro o della margarina. Con un coltello normale. Ecco il risultato che avremmo. E a chi piacerebbe? Signore, questo coltello premium non ha alcuna punta. Con il lato più largo posso prendere la crema tranquillamente. E dopo posso spalmarla sul pane in modo perfetto. Sono coltelli per spalmare. Sono coltelli per la pizza. Sono coltelli per snack. Sono coltelli speciali. Giusto? È davvero un coltello fenomenale. Potete usarli sempre in casa. E quella che vedi qui, Horst, è la zona d'aria. Indispensabile perché crea un cuscinetto d'aria tra la lama e quello che stiamo tagliando. Ed ecco perché quando tagliamo il risultato è sempre perfetto. Sei coltelli per i vostri adorati snack. Non potreste ottenere un risultato migliore di questo. Ma avveniamo a un altro utensile. Le forbici per sminuzzare. Si tratta di una, due, tre, quattro, cinque forbici in una. Se volete guarnire qualcosa con delle erbette, guardate. Anche un bambino potrebbe farlo. Non potete sbagliare. E ora tagliamo un po' d'erba cipollina per il nostro sandwich. Oppure, mentre cucinate, potete sminuzzare le erbette direttamente nella vostra zuppa. Vi permetteranno di risparmiare un bel po' di tempo in cucina. Peppi, sei incredibile. Queste forbici nei negozi le pagheresti almeno 20 euro. Ma oggi sono incluse nel prezzo. E qui abbiamo il doppio marco, interno ed esterno, per garantire una presa migliore. Peppi, qual è il valore del set completo? Stiamo per farvi la migliore offerta di tutti i tempi. Quindi fate molta attenzione, signore e signori. Grazie a questa sensazionale offerta, oggi riceverai in omaggio completamente gratis... Il versatile coltello trinciante TV Airwave, con la robusta e pratica lama da poter usare sia in casa che fuori. Sempre incluso nell'offerta... Riceverai il coltello per sfilettare super affilato, del valore di 15 euro. Ma aspetta, non è ancora finita. Sempre incluso nell'offerta, riceverai questo set per decorare, pelare, tagliare e guarnire. Per decorare e abbellire appetitosi snack o deliziosi dolcetti, sempre gratis. Ma non è ancora finita. Riceverai a casa anche queste sensazionali forbici 5 in 1, del valore di 15 euro, che ti faranno risparmiare un sacco di tempo in cucina. È davvero incredibile! Riceverai tutto questo gratis, così potrai provare direttamente a casa la qualità unica dei sensazionali coltelli TV Airwave. Con questa offerta, il solo prodotto che pagherai oggi è il sensazionale coltello da cucina TV Airwave. Con l'esclusiva tecnologia con cuscino d'aria, completo di distanziatore manuale per tagli sempre uguali e perfetti ogni volta. Chiama ora e riceverai questa esclusiva offerta al prezzo in sovraimpressione. Che cosa stai aspettando? Si tratta di un'offerta imperdibile. Chiama il numero in sovraimpressione e ordina il tuo coltello TV Airwave. Ma aspetta, non è ancora finita. Grazie a questa offerta esclusiva, chiamando e ordinando subito, ti invieremo 6 coltelli premium del valore di 28 euro l'uno, inclusi nel prezzo. Proprio così, gratis! Senza alcun costo aggiuntivo. Si tratta di un'offerta davvero imperdibile. Non perdere questa opportunità. Pagherai soltanto il prezzo in sovraimpressione per questo sensazionale coltello da cucina, con tecnologia a cuscino d'aria e comodo distanziatore manuale. Chiama subito e incluso nel prezzo riceverai gratis anche il coltello trinciante, il coltello per sfilettare, il set composto di tre parti per decorare e guarnire, le rivoluzionare forbici per erbette 5 in 1 e 6 coltelli premium. Si tratta di una serie completa che rivoluzionerà definitivamente il tuo modo di cucinare. Chiama subito e grazie a questa offerta esclusiva pagherai solamente il prezzo in sovraimpressione. E non dimenticare di chiedere agli operatori anche del ceppo portacoltelli. In questo modo i tuoi TV Airwave saranno sempre a portata di mano. E la tua cucina sarà sempre pulita in ordine. Niente più cassetti pieni zeppi di coltelli, grazie al bellissimo ceppo portacoltelli. Oggi ad un prezzo sensazionale. E ora signore e signori vi mostrerò il mio arrosto della domenica. Impostiamolo su uno spessore per arrosti, ovvero circa un centimetro. Orst, ogni fetta è spessa esattamente come quella successiva. Tutte fette perfettamente uguali. E' stabile avere in casa un coltello come questo con un cuscino d'aria. Ci sono tre parti fondamentali. La lama liscia per effettuare il primo taglio. La lama robusta per non rovinare il coltello. Ma la parte più importante è in mezzo. La speciale dentatura per un effetto a cuscino d'aria. Questi sette denti qui creano un cuscino d'aria tra la lama e quello che state tagliando a ogni movimento del coltello. Ecco perché funziona così bene. Ma non vi ho ancora detto la parte più bella. Ecco la cosa più interessante. Ora useremo il coltello per sfilettare con lama flessibile. Guardate, è davvero semplice da usare. Quando il coltello ha la giusta affilatura, quando è fatto con il materiale giusto, quando il manico ha una forma ergonomica e quando ha una lama sottile, è come tagliare del burro. Allora avete il coltello giusto. Ecco quali caratteristiche dovrebbe avere per fare dei tagli precisi. Oppure se dovete tagliare qualcosa velocemente, una zucca o un melone, proprio come questo. Sfilettare il pesce. Taglierete tutto quello che volete in modo semplice con questo coltello. Ora prendiamo della carne. Se qualcuno non vuole la cotenna perché è troppo dura, guardate. In questo modo vi dimostro che questa cotenna è bella dura, quindi si tratta di un lavoro piuttosto complicato, non è così? Altro che... La pelle di maiale. Guardate, sembra la lama di un rasoio. Fa tutto da solo. È sbalorditivo. Praticamente è come tagliare burro. Se volete toglierla del tutto, basta tagliarla così. Sei un artista. No, non sono un artista. Sì che lo sei. Grazie al coltello con cuscino d'aria posso tagliare la cotenna. È facile. Lo vedo. Allo stesso modo potete tagliare qualunque cosa per preparare dei cordon bleu. Questi coltelli sono un must in cucina, sembrano arrivati da un altro pianeta. Il coltello trinciante con lama speciale, questo è il coltello più robusto della nostra serie. È lungo ben 15 centimetri. Questo coltello si adatta facilmente alla mano. Ora giro il coltello e uso la lama speciale. Guarda, è incredibile. È davvero una bomba. Inizio a tagliare i broccoli, gli spinaci, tutto quello che volete. Latte condensato in lattina. Potete metterlo nel caffè. Incredibile. Tardiamolo a fette. Voglio mostrarvi la robustezza di questo coltello, signore e signori. Questo coltello potrebbe non servirvi tutti i giorni, ma quando vi occorre avrete la garanzia di usare un attrezzo di lusso. E se volete, basta girarlo e riuscirete a tagliare anche il legno. Questo significa che potete anche tenerlo nella cassetta degli attrezzi di vostro marito. Così avrà il coltello giusto per costruire i suoi modellini. Ma c'è di più, ah sì, molto molto di più. Dimenticate quelle affettatrici ingombranti e poco pratiche. Niente più coltelli che non tagliano. È arrivato il coltello rivoluzionario con tecnologia TV Airwave. Grazie ai denti innovativi, la lama speciale scivola su qualsiasi cosa grazie al cuscinetto d'aria. In questo modo tagliare diventa più veloce, più preciso e più sicuro. Sfilettare carne o pesce. Aprire i panini. Oppure, grazie al distanziatore, preparare meravigliosi piatti da portata o arrosti. Le lame robuste resistono a qualsiasi genere di lavoro. Grazie alla qualità dei coltelli TV Airwave. Acquista questo coltello rivoluzionario, il coltello TV Airwave. Completo di distanziatore manuale per tagli uguali e precisi. Solo questo speciale distanziatore garantisce risultati perfetti. Con un rapido gesto potete regolare lo spessore di ciò che tagliate. Attenzione, il distanziatore manuale è disponibile solamente con il coltello TV Airwave. Non esiste niente del genere. I coltelli TV Airwave. Per sfilettare o disossare. Grazie alla loro lama speciale. Ma aspetta a chiamare. Resta sintonizzato e rimarrai stupito delle potenzialità dei coltelli TV Airwave. Pelare, tagliare, affettare. Grazie alla lama filata su entrambi i lati, questa lama, signore, è temprata a olio e a ghiaccio. Questa caratteristica, insieme all'affilatura in diamante, gli permettono di pelare sia verso l'alto che verso il basso. Sono senza parole. Pela verso l'alto e verso il basso, in avanti e indietro, anche velocemente. Ecco perché è un pelatore super, il pelatore professionale di Horst Fuchs. Horst, vieni qui un minuto. Voglio mostrarti una cosa. Sì. Tagliamo del formaggio. Hai sentito bene? Possiamo tagliare anche del formaggio. Basta far scivolare il coltello. Ogni fetta è uguale all'altra. Possiamo farlo non solo con il formaggio morbido, ma anche con l'Edam, il Gouda o il Cheddar. Guarda Horst, hai mai tagliato il parmigiano a fette? Allora, perché non provi? Vedrai, sarà un successo, è facile. Tutti possono farlo. Guarda, ogni fetta è uguale all'altra. Sì, è un gioco da ragazzi incredibile. È anche divertente. Tutti, ma proprio tutti, possono riuscirci con questo attrezzo rivoluzionario. E finalmente niente sprechi. Quando la lama va in contatto con una superficie è indifferente. Che si tratti di una superficie dura o morbida, non è un problema. Sia che si tratti di sedano, barbabietola, mele, cetrioli, carote, peperoni, funghi. Puoi pelare qualsiasi cosa, verso il basso, verso l'alto o in entrambe le direzioni, vedi? A velocità massima e con la lama in questo modo posso togliere anche i semi. E ora vi mostrerò perché questo coltello è estremamente valido e non può essere paragonato a nessun altro coltello. Oltre a pelare e a tagliare il formaggio, possiamo anche guarnire il nostro dolce alle mele in un lampo, signore. Insaporire con qualunque cosa. Horst, per esempio, sta usando del parmigiano. Potete affettare le mele direttamente sulla teglia da forno per un risultato rapido e preciso. Dimmi, Pepi, hai fatto tu questa fantastica decorazione con tutta questa frutta meravigliosa? Certo, Horst. Ed è davvero molto semplice e veloce quando hai l'attrezzo giusto. Un fantastico set per guarnire. Con questo tutti possono farlo. Non occorre essere esperti. Guarda, meloni, uva, barbabietola, ravanelli, qualunque tipo di frutta o verdura abbiate in casa. Potete scegliere tra un coltello da taglio o un coltello loop. È davvero facile. Iniziamo con quello da taglio. Tutto quello che vedi qui ha una superficie curva. Meloni, olive, uva, pomodori. Puoi inciderli perfettamente e ottenere due metà uguali. Lascia che te lo mostri di nuovo o più lentamente. Taglio il kiwi, tutto intorno. E ora, con l'ultimo taglio, ritorno al punto di partenza. A questo punto, capovolgo la metà superiore. Così posso usare entrambi i lati. Guarda che meraviglia, Horst. Sono davvero bellissimi. Adesso faremo dei piccoli fiori. Oppure, per esempio, possiamo fare dei riccioli. Con questo coltello loop è un gioco da ragazzi. Iniziamo a tagliare. Andiamo verso il basso e ritorniamo su. Continuiamo così per tutta la superficie del ravanello. Incredibile. Questo coltello è affilato anche all'interno. Può essere usato sia con la mano destra che con quella sinistra. E ora faremo dei bellissimi riccioli con l'arancia. Basta tagliare e piegare la buccia per creare un bel ricciolo. Controlla l'ora. Per fare delle bellissime decorazioni non ci vuole molto. Circa 7-8 secondi. E quando dico 7-8 secondi, intendo davvero 7-8 secondi. Bellissimi riccioli d'arancia in poche mosse. Ma ora veniamo ai coltelli più importanti, signore e signori. Ce ne sono ancora. I coltelli premium, si tratta di coltelli unici che non si sono mai visti in cucina. Sono ideali per la colazione. Con i coltelli normali non riusciamo mai a tagliare bene i panini. Hai ragione. Possiamo usarli per mangiare, ma per tagliare ci occorre un coltello speciale. Un coltello universale da usare per ogni scopo. Iniziamo a tagliare. Pagnotte, rosette, pretzel, cornetti. Qualunque cosa viene tagliata in modo tale che non si sfaldi. E il risultato è sempre perfetto. Sono affilati come le lame di un rasoio. Prendiamo della crema spalmabile, del burro o della margarina. Con un coltello normale, ecco il risultato che avremmo. E a chi piacerebbe a nessuno. Signore, questo coltello premium non ha alcuna punta. Con il lato più largo posso prendere la crema tranquillamente. E dopo posso spalmarla sul pane in modo perfetto. Sono coltelli per spalmare. Sono coltelli per la pizza. Sono coltelli per snack. Sono coltelli speciali. Giusto? È davvero un coltello fenomenale. Potete usarli sempre in casa. E quella che vedi qui, Horst, è la zona d'aria. Indispensabile perché crea un cuscinetto d'aria tra la lama e quello che stiamo tagliando. Ed ecco perché, quando tagliamo, il risultato è sempre perfetto. Sei coltelli per i vostri adorati snack. Non potreste ottenere un risultato migliore di questo. Ma avveniamo a un altro utensile. Le forbici per sminuzzare. Si tratta di una, due, tre, quattro, cinque forbici in una. Se volete guarnire qualcosa con delle erbette, guardate, anche un bambino potrebbe farlo. Non potete sbagliare. E ora tagliamo un po' d'erba cipollina per il nostro sandwich. Oppure, mentre cucinate, potete sminuzzare le erbette direttamente nella vostra zuppa. Fantastico. Peppi, sei incredibile. Queste forbici nei negozi le pagheresti almeno 20 euro, ma oggi sono incluse nel prezzo. E qui abbiamo il doppio marco, esterno ed esterno, per garantire una presa migliore. Peppi, qual è il valore del set completo? Stiamo per farvi la migliore offerta di tutti i tempi, quindi fate molta attenzione, signore e signori. Grazie a questa sensazionale offerta, oggi riceverai in omaggio completamente gratis... Il versatile coltello trinciante TV Airwave, con la robusta e pratica lama da poter usare sia in casa che fuori. Sempre incluso nell'offerta, riceverai il coltello per sfilettare super affilato del valore di 15 euro. Ma aspetta, non è ancora finita. Sempre incluso nell'offerta, riceverai questo set per decorare, pelare, tagliare e guarnire. Per decorare e abbellire appetitosi snack o deliziosi dolcetti, sempre gratis. Ma non è ancora finita. Riceverai a casa anche queste sensazionali forbici 5 in 1, del valore di 15 euro, che ti faranno risparmiare un sacco di tempo in cucina. È davvero incredibile! Riceverai tutto questo gratis, così potrai provare direttamente a casa la qualità unica dei sensazionali coltelli TV Airwave. Con questa offerta, il solo prodotto che pagherai oggi è il sensazionale coltello da cucina TV Airwave. Con l'esclusiva tecnologia con cuscino d'aria, completo di distanziatore manuale per tagli sempre uguali e perfetti ogni volta. Chiama ora e riceverai questa esclusiva offerta al prezzo in sovraimpressione. Che cosa stai aspettando? Si tratta di un'offerta imperdibile. Chiama il numero in sovraimpressione e ordina il tuo coltello TV Airwave. Ma aspetta, non è ancora finita. Grazie a questa offerta esclusiva, chiamando e ordinando subito, ti invieremo 6 coltelli premium del valore di 28 euro l'uno, inclusi nel prezzo. Proprio così, gratis! Senza alcun costo aggiuntivo. Si tratta di un'offerta davvero imperdibile. Non perdere questa opportunità. Pagherai soltanto il prezzo in sovraimpressione per questo sensazionale coltello da cucina, con tecnologia a cuscino d'aria e comodo distanziatore manuale. Chiama subito e incluso nel prezzo riceverai gratis anche il coltello trinciante, il coltello per sfilettare, il set composto di tre parti per decorare e guarnire, le rivoluzionare forbici per erbette 5 in 1 e 6 coltelli premium. Si tratta di una serie completa che rivoluzionerà definitivamente il tuo modo di cucinare. Chiama subito e grazie a questa offerta esclusiva, pagherai solamente il prezzo in sovraimpressione. Affrettati! Chiama e ordina adesso! E non dimenticare di chiedere agli operatori anche del ceppo portacoltelli, in questo modo i tuoi TV Airwave saranno sempre a portata di mano. E la tua cucina sarà sempre pulita in ordine. Niente più cassetti pieni zeppi di coltelli, grazie al bellissimo ceppo portacoltelli. Oggi ad un prezzo sensazionale!